Stesso posto, stesso bar, alla guida Sandrino Detto e il Bruz, dietro abbiamo Mattia l'inseminatore folle e poi abbiamo Mr. Forense in fase REM. Stiamo andando a Iesi, al palazzetto dello sport, perché oggi faremo un allenamento sull'acrobatica e quindi abbiamo bisogno della palestra attrezzata. Ci sarà da divertirsi anche lì, vediamo cosa riesco a filmare. Palasport di Iesi, siamo arrivati ragazzi, arrivati, bomba. Sei pronto a fare un po' di backflip? Mamma mia che capelli, brutti. Sì, sono pronto. Mamma mia, che schifo. E qua da metto mano? Come è violento, è una persona più bella. Scusi, è pronto a fare un po' di backflip? Siamo ritornati qui dopo quanto? Un anno, un anno. Andiamo a fare un po' di backflip? No, sto saltino è l'unicina Anch'io lo farei Applauso Applauso Ale Bella Maglia Preparati che adesso ti ho aspettato Siamo anche qua Guarda lì Guarda lì Guarda lì Bello Ma quel rumore tocca Come si chiama questo movimento che hai fatto? Kip vero? Ci dai poi degli esercizi per capire come lavorarla In blocco Sono sciabolate queste Ma che sciabolate Dang Si gioca proprio Poi un po' il pistone Ma come sono basse Non le mie tecnici Eh non male però eh Bravo Manu Pulla Ale 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 Dai 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 Grande Manu Eh la testa che ha giù Plana in planche Plana Plana Eh Sei un po' scoordinato la prima volta Ma ci si arriva Questa è la kit lunga Così E poi c'è la kit lunga Cioè non pieghi le braccia? No le braccia sono sempre tese E poi è la kit breve Ah questa è la kit lunga E poi c'è da sopra Ok Ma quale delle due è più facile? Guarda Tutto uguali Credo me la seconda Per noi Beautiful Eccola lì Ma si Ma ciao proprio Ma ciao proprio Grande Manu E lui Non girava Quello di prima E giurava il calcio Vai a convertane Vai a convertane Vai a convertane Eeeh Arrivare in piedi di più Prendi il calcio Eh Ma allora sto salto mortale Oh c'è cazzo Ho imparato In un'ora Guarda No Io salto da Da tre palli di prima Vai Manu Sei emozionato Tia Si è emozionato Inizia già a accendermelo Dove c'è il tappeto verde salta Vai Tia Vai Ale Vai Ale Caminantino Eeeh Caminantino Ah però è bellissimo Io fa lui dorme In disciplina Allianelli E' un pull Il borotato Ce l'ho se vuoi In borsa lì Bomba Andre Grande Wuhu Minchia Arriva vento veramente Arriva vento veramente Grande E' un po' di tutto il movimento di spalla Un po' di tutto il movimento di spalla Un po' di tutto la E' un po' di tutto il movimento di spalla Non lo so Ma se lo sanno Se si è inizia E' un po' di tutto il movimento di spalla Si 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 Bella Manu How's it? Partendo la sfida Partendo la sfida Vai infilare lì dentro Sembrava che mi scisse un'ernia Se Anchorio dai tese le gambe e non te le dimenticare si pe sbilancia un po' con le spalle così è più torsa dai dai pe non te concentrati vai bella 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 grande Andre bella bella grande bella 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 bravo sposta è bravissimo sposta sulla sinistra dai 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 tieni ancora uno dai dai su 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 dai dai forza dopo Andre me lo vuole forza 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 allena gli altri capito mi piace tanto farli quanto da lei si avevamo fatto altra volta e giù basta non mi ricordo cosa devo fare guarda qui devi provare girare e le appoggio qua saltano 20 ragazzi sopra ok tassi cedi giri poi se riesci a tornare qui a fare il giro completo spinto stai già tirando hai già i gomiti piccati dai dai gambe unite gambe unite tirano le gambe tirano le gambe bravo dai bravo braccia tesa è stata a far salire la schiena bravo dai 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 chi ci sei forza braccia 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 non appoggiare il gomito dai dai stendi stendi braccia stendile 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 spingi giù dai 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 giuseppe lo filmi qua su 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 bravo che fa trazzare un braccio la sbarra lì allora siamo appena usciti dal palazzetto sono le 7.30 abbiamo fatto le nostre tre belle ore di allenamento oggi abbiamo lavorato in sostanza su l'acrobatica principalmente abbiamo fatto tutta una parte di riscaldamento all'inizio di circa quanto? 40 minuti? un'ora? si è pallato dove ci hanno fatto fare tutto il lavoro di base molto molto interessante che poi siamo passati all'acrobatica come avete potuto vedere dalle immagini non sono riuscito a riprendere tantissimo però insomma quel poco che siamo riusciti a riprendere spero che possa un po' entusiasmare come entusiasmato noi dettagli interessanti come sempre quindi anche oggi super lezione commenti a caldo qual è l'esercizio che vi è piaciuto di più? i salti i salti il cavallo il cavallo il cavallo tra l'altro difficilissimo cioè una roba veramente disumana a vedere loro sembra tutta una cagata cioè corpo ultra compatto immobile bloccato minchia noi sembriamo tutti delle lumache placidi pesanti pesanti ma ragazzi vabbè yuri bravo lo sappiamo se neanche a parlarne ma vogliamo parlare di Andrea è un altro pelato cioè pelati perché il vero segreto della forza è perdere i capelli essere pelato come me vedi eh vedi tu stai qui sono l'eccezione però pelato ma non forte se anche voi volete diventare forti non come noi come loro perdete i capelli non ci stiamo arrivando vedete qua perché siamo nella direzione giusta perché è calvistenis è calvizia è calvizia è calvistenix calvistenix vai Alec vai Alec vai prezza tu prezza bella 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 non voglio sporcare mai abbiamo hanno chiuso la festa ciao ragazzi un altro backflip Andre un altro backflip beh in chiusura un backflip dai in chiusura in chiusura Andre vai 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 hai ap fitting vabbè lo apprendito bene è catt카 lì riparte mi piace bello 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 Ale Ale pre pre re come leesten Pan pa pre repos puoi le re puoi le re pa vai Dario Vai 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 Dario Spara one hour Vai Dario Buonasera a tutti Vediamo subito insieme Con tanta violina e anche tanto coraggio Buona tisana allora Sì me la fai per favore Allora ultimo giorno Domenica mattina giornata di gara Ci hanno dato un regolamento Dove abbiamo dovuto riportare dietro il nostro set E praticamente inizieremo con delle prove di forza Quindi trazioni, push up e squat jump sul cubo Al termine di questo partiremo con la gara di skills Quindi vediamo come va